Nel trigesimo della scomparsa di Monsignor Grazio Labbiso, parroco della Chiesa Madre e già vicario foraneo della diocese di Piazza Almerina, ieri è stata scoperta una lapide sulla restauro dell'opera Pignatelli Roviano, voluta dallo stesso sacerdote, per dare il giusto merito a quanti hanno contribuito alla realizzazione della restauro del palazzo, eroso dal tempo e dalle diverse distrazioni degli uomini. L'iniziativa ha coinvolto i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Principessa Vignatelli Roviano, preseduto da Rocco Vacca. La benedizione è stata seguita da don Giovanni Tandurella. Una celebrazione, ma sicuramente una commemorazione, e quindi una data importante. Aver fatto la scopertura di questa lapide era un grande desiderio, voler dare il giusto riconoscimento a chi sono stati gli artefici di una ricostruzione di un palazzo che era ridotto mai allo squallore. Purtroppo lo facciamo nella data del 30esimo della sua dipartita. Noi siamo soddisfatti con un po' di amarezza, un po' di tristezza dentro, sicuramente sì, però siamo orgogliosi di aver fatto questa operazione.